Ha parlato questa mattina in conferenza stampa il tecnico della Pescara Silvio Baldini in vista del match di domani, inizio ore 17.30 all'Adriatico contro il Sestri Levante. Baldini ha subito precisato che la squadra non ha sofferto il contraccolpo dopo la sconfitta di Pesaro perché ha ricevuto tanti attestati di stima. Domani, oltre a Lonardi che si è operato tempo fa al ginocchio, sarà indisponibile anche Erasmo Mule che si sta curando un problema al polpaccio. Verrà convocato ma tornerà abile ed arruolabile poi dalla prossima settimana. Non è stata svelata la formazione perché nel pomeriggio ci sarà la rifinitura, di sicuro al posto di squizzato giocherà De Marco e tornerà dal primo minuto in attacco Davide Merola. Con le immagini di Diego Martelli ci andiamo ad ascoltare i passaggi salienti della conferenza stampa di Silvio Baldini. Come ha digerito sempre la squadra la sconfitta di Pesaro? Sanno e hanno ricevuto tanti complimenti e tanti attestati di stima quindi i ragazzi sanno che hanno fatto il loro dovere e come ti ripeto anzi c'è con la rabbia giusta per poter giocare, per poter riprendere il nostro cammino. E ti dirò che giovedì avevano fatto una buona amichevole perché hanno fatto una buona amichevole e mi sembravano un attimino, sai, rispetto alle altre partite. Però c'era da tenere conto che noi venivamo da tre partite in una settimana quindi mercoledì era la quarta partita perché anche se sono amichevoli i ragazzi la fanno con impegno. E avevano dato certe cose che non le facevano proprio con quella determinazione e invece ieri mi hanno stupito di nuovo perché andavano, andavano forti, erano tutti con la testa a pensare alla partita di sabato. E come sta dal punto di vista medico assente di Leonardo e Moulet come sta? Moulet sta facendo recupero, penso che dalla settimana che andremo a Rezzo sia recuperato al 100%, anche se verrà ugualmente in panchina che se ci fosse veramente bisogno, però vediamo dai. Mister, io le volevo riportare una cosa che poi uscirà la settimana prossima anticipato Bentivegna nel corso di una trasmissione ieri, ha detto il segreto di Baldini è il nostro papà. Le fa piacere questo? Molto, molto, mi rende molto orgoglioso perché io vorrei essere considerato come se io fossi veramente il loro papà perché io li tratto come tratto i miei figli, né più né meno per me sentire queste cose mi riempie di orgoglio. Io non sono come quegli allenatori che dicono sì però io non vado a cena, io non vado a cena per non disturbarli, ma i ragazzi anche come gli ho offerto una cena, io ho pagato io a tutti, però io non sono andato perché volevo che si godessero la libertà, però loro ci tenevano che io ci andassi, però gli ho spiegato. Guardate, io do la carta di credito a Mattia, però io non vengo perché anche i miei figli che mi vogliono bene quando hanno tutta la loro compagnia, se dovessi andare a cena con loro mi sentirei più un intruso, eppure sono i miei figli. E ugualmente lo faccio con la squadra, quindi è la stessa cosa. E quindi grazie, grazie perché questo è il massimo che io posso ottenere da gente che io alleno, dirmi che mi sentano come un papà, per me è la cosa che più mi gratifica, perché io cerco di farlo e spero di esserlo. Torno a fare una domanda dal punto di vista tecnico, lei non si è mai soffermato sull'avversario, io faccio un numero solo per capire se può essere una difficoltà o se comunque non incide sul vostro piano partito. Il Sestri nelle ultime quattro trasferte non ha subito gol e nelle ultime cinque partite solo due, di cui uno sul rigore al novantatresimo con la Ternana. Significa che quelle giocate che ha visto ieri in allenamento devono essere fatte al 100% domani? No, io ti ripeto, qualsiasi squadra che affronto non vado mai a vedere queste statistiche, anche se poi le so, perché lo so che c'è, perché io non voglio condizionarmi a pensare agli avversari, io voglio pensare a noi, cosa possiamo fare del giusto noi, quali sono le cose che ci rendono, che ci mettono in forma, che ci rendono una squadra compatta, una squadra aggressiva. Cioè, poi gli altri hanno uno score buono, complimenti a loro, ma noi dobbiamo pensare che non affrontiamo il Sestri Levante, noi affrontiamo la Juventus. Io glielo dico sempre, se noi vogliamo arrivare in Serie A, è normale che questo percorso trovi delle difficoltà. Intanto bisogna andare in B e poi quando siamo in B andremo in A. Se io a loro gli faccio vedere Milan-Real Madrid per spiegare i problemi che possono accadere in una partita che non è nel Milan, non è Real Madrid, ma è il Sestri Levante, tu capisci che noi non sottovalutiamo nessuno, anzi, abbiamo messo a fuoco i problemi ancora dieci volte più grandi di quelli che sono, però noi non ci deve, dei dati statistici, metterci in allarme. L'allarme c'è sempre, quindi io non devo essere in allarme, noi siamo contro chi giochiamo, noi sappiamo che dobbiamo sempre essere quelli lì. Quindi non è un'arroganza, è perché lavoriamo tanto e perché abbiamo rispetto di chiunque affrontiamo, però se andiamo a vedere quelle cose lì poi ti condizioni, quando vedi degli errori cominci a pensare, ah ma forse sta a vedere che oggi non è una parte, invece poi come è successo con il Ponte d'Era, puoi fare quello anche al 96esimo. L'importante è essere come martelli sempre lì, essere sempre lì, cercare con la massima capabilità il massimo risultato facendo le cose al massimo. Sugli spazi così stretti, quale può essere quel quid in più? In quid ci sono tante situazioni, l'importante è saper sempre mettere in difficoltà gli avversari, mettere in difficoltà gli avversari vuol dire fargli togliere le spalle dalla porta, è come quando un pugile è all'angolo e lo devi portare al centro del ring, se sei bravo lo porti al centro del ring e avrai più possibilità di colpirlo, se no in quell'angolo lì è più difficile fargli male e la partita di calcio è la stessa cosa. Io l'ultima mia considerazione la voglio fare sull'attacco del Pescara perché con il tempo si stanno delineando quelle che sono le classiche coppie sugli esterni e al centro. La coppia a sinistra, Cangiano-Bentivegna, che è quella che si è vista se non ero in casa proprio con il Ponte d'Era, ora che le partite, adesso a parte il recupero con il Milan, tornano ad essere settimana per settimana, può essere quella la coppia visto che Merola, da come ha sempre detto lei, quando sta bene ha il suo posto? Oppure Bentivegna? Merola ha il suo posto perché lui ha una percentuale realizzativa molto più alta rispetto agli altri, non è che è Merola perché si chiama Merola, Merola è uno che quando gioca ha una capacità realizzativa più alta perché sa leggere le situazioni in maniera più efficace rispetto agli altri, e quindi è normale che se un giocatore ha dei valori in più lo devi utilizzare di più. Ma se dico la coppia sarà Cangiano-Bentivegna a sinistra o Bentivegna a seconda? Non cambia niente perché non c'è titolare riserve, noi cerchiamo di mettere in campo quelli più utili in quel momento lì, e come ti ripeto, siccome gli esterni sono quelli che devono lavorare di più, quando finisce la partita avranno giocato tutti, come è sempre successo.